Io ancora non mi riesco a spiegare perché l'udienza non si può fare in videoconferenza. Gli avvocati dai propri studi e dai giudici e dalla procura. Si fanno le lezioni in DAD nel 2021, non ho capito perché ancora non si fanno le udienze in videoconferenza. Si allungano i tempi sulle verità della tragedia di Rigopiano. Si sarebbe dovuta svolgere oggi dopo mesi l'udienza preliminare davanti al gruppo Gianluca Sarandrea, il giudice rientrato dopo un periodo di quarantena è tornato a svolgere le sue funzioni presso il tribunale di Pescara ma la paurosa risalita dei contagi e la zona rossa nella città adriatica impongono lo slittamento. La decisione nei giorni scorsi è stata valutata e condivisa anche dai legali della difesa e delle parti civili. Infatti preoccupano gli inevitabili assembramenti che si formerebbero all'interno delle aule. È vero sì che dallo scorso anno sono state previste per questo maxiprocesso quattro aule collegate in videoconferenza ma è pur vero che ogni aula finora ha radunato quasi un centinaio di persone per non parlare di avvocati e familiari che devono raggiungere Pescara da altre regioni. A questo punto una valutazione è comprensibile quella avanzata al giudice per le udienze preliminari visto che il rinvio terrà conto anche della sospensione della prescrizione per tutto il tempo del rinvio. L'udienza di oggi era la più delicata di quelle finora tenute poiché era previsto non solo l'esame del perito trascrittore delle telefonate intercettate ma anche l'acquisizione di riti alternativi, l'acquisizione di documentazione relativa a indagini difensive, la discussione sulle istanze di sequestro conservativo e proannunciate da alcuni parti civili, nonché la discussione sull'ammissione di eventuali integrazioni probatorie anche di natura tecnica finalizzate a ricostruire le cause dell'evento valanchifero sempre nell'ottica di eventuale richiesta di giudizio abbreviato. La tragedia dell'hotel Rigopiano spazzato via da una valanga dove persero la vita 29 persone tornerà dunque in aula il 21 maggio alle ore 9.30, un'attesa lunga in cui si possa comunque vedere la luce in fondo al tunnel dopo questa nuova fase acuta della pandemia covid e magari lavorare a più incontri settimanali. La speranza è che il coronavirus inizi a diminuire con i contagiati, soprattutto adesso che ci stanno le prime fasi di vaccinazione, almeno da permetterci a tutti quanti di tornare in aula. Un aspetto che dal 21 maggio si riparterà veramente, non un udienzo ogni due settimane, questa volta fare tre giorni, quattro giorni di fila anche per gli avvocati che vengono là fuori, fanno un viaggio solo e si va avanti con questo procedimento.